Ultimamente Nick Walker sta postando un sacco di aggiornamenti sul suo fisico post Olimpia e in questi aggiornamenti appare veramente molto molto pulito e ancora con una bassa percentuale di massa grassa. Cosa molto strana perché se vi ricordate l'anno scorso dopo che Nick Walker aveva fatto ogni gara faceva sempre un rebound molto importante e quindi aumentava di molto anzi di moltissimo la massa grassa in pochissimo tempo dopo aver fatto la gara. Questo è il rebound quindi rimbalzo si passa da una condizione estrema con una bassa percentuale di massa grassa, una condizione con un altissimo percentuale di massa grassa in pochissimo tempo dopo aver fatto la gara. Però questa volta non lo sta facendo dopo aver fatto l'Olimpia tre settimane fa ormai Nick Walker è ancora veramente molto molto pulito e definito. Cosa che mi fa pensare che a questo punto è intenzionato a fare l'Arnold Classic. Inizialmente Nick Walker lo voleva fare all'incirca verso ottobre, lo ha detto nel podcast di Flex Lewis, poi però aveva cambiato idea. Però forse ora che è uscita la lista dei partecipanti che saranno solo sette, Nick Walker potrebbe aver cambiato idea e potrebbe essere intenzionato a fare l'Arnold Classic. Perché il line up è abbastanza scarsino ma il monte premi è altissimo, infatti il monte premi è di 200.000 dollari. Quindi Nick Walker secondo me ha cambiato idea e vuol fare l'Arnold Classic, cosa che stanno sospettando un po' tutti. Perché in tutti i commenti delle sue foto su Instagram tutti gli chiedono che se farà l'Arnold Classic eccetera eccetera. Quindi in moltissimi sospettano che Nick farà l'Arnold e in una foto, e non mi ricordo quale, come descrizione aveva messo le cose potrebbero essere interessanti. E secondo me questo è un altro segno che moltiplica le possibilità che Nick Walker faccia l'Arnold Classic. che se dovesse fare andrebbe a vincere nettamente al 100%. Non c'è nessuno che può dargli minimamente fastidio, a meno che ecco non lo farà anche Derek Lansford che è ancora indeciso se farlo o no. Nel podcast dell'Olimpia TV ha detto che non sa ancora se farlo e che Ani il suo coach vorrebbe che Derek si concentrasse solo sull'Olimpia. Però Derek secondo me vuol fare l'Arnold e si sta preparando in segreto, anche perché non ha mai smesso di allenarsi. Sia lui e Nicole che non hanno mai smesso di allenarsi dopo l'Olimpia. Derek dopo l'Olimpia è stato male qualche giorno come tutti, perché ho sentito che praticamente tutti si sono ammalati dopo l'Olimpia. Derek era uno tra questi, è stato male qualche giorno però poi è tornato subito ad allenarsi. Mentre Nicole che non so se si è ammalato però l'ho sempre visto in palestra dopo l'Olimpia e quindi a quanto pare non ha mai avuto niente. E a questo punto la domanda è se Nicole che è veramente intenzionato a fare l'Arnold Classic, cosa può effettivamente migliorare rispetto all'Olimpia? In cosa può migliorare? Secondo me le cose in cui Nicole che può migliorare rispetto all'Olimpia sono zero. Cioè secondo me non può migliorare di nulla perché ha portato a una forma veramente ottima. La condizione era perfetta. Uno dei pochi che non aveva acqua corporea. Forse era anche il più definito in generale nella Open. Quindi secondo me le cose in cui Nicole che potrebbe migliorare sono zero. Non ci sono cose in cui potrebbe migliorare. Forse ecco il posing per la routine finale. All'Olimpia Nicole ha fatto una routine artistica come state vedendo in questo momento. Però alla fine stava soffrendo veramente molto e aveva iniziato ecco a lasciare andare lo stomaco. Faceva un po' di fatica a controllarlo verso la fine. Quindi in quello si potrebbe migliorare anche se ecco la posing routine artistica non conta niente. Anzi no, all'Arnold Classic conta la posing routine finale perché c'è il premio per il miglior posatore. Quindi solamente all'Arnold della posing routine finale conta. E quindi secondo me Nicole che potrebbe cercare ecco di migliorare ecco il controllo addominale nella posing routine finale. Che è una cosa molto difficile perché lui avendo fatto una routine artistica è difficile contenere l'addome considerando che è un super mass monster di grandissime dimensioni. Quindi è molto difficile saper controllare l'addome essendo un super super mass monster in una routine artistica. Però ecco si può sempre migliorare. Comunque se Nicole che dovesse fare l'Arnold Classic non vedo nessuno che possa dargli minimamente fastidio neanche Samson Dauda. L'unico che può batterlo è Derek Lansford che l'ha battuto ecco l'Olimpia. Adi sicuramente non farà il misto Olimpia perché è successo solo una volta che un misto Olimpia in carica dopo aver vinto l'Olimpia ha fatto l'Arnold Classic ovvero Ronnie Coleman nel 2001. Non so se l'ha fatto anche Dexter Jackson nel 2009 dopo che aveva vinto l'Olimpia nel 2008. Mi pare di no però. E quindi è successo solo una volta che un misto Olimpia in carica ha fatto un Arnold Classic da misto Olimpia in carica ovvero Ronnie Coleman. Quindi Adi è totalmente escluso da questa possibilità di fare l'Arnold Classic. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate di questi aggiornamenti su Nick Walker e se anche voi pensate che farà l'Arnold Classic tra 7 settimane, anzi meno di 7 settimane, tra 6 settimane e mezzo, fatemelo sapere. Come la soggio con l'acqua e un commento e ci vediamo in un nuovo video. Grazie a tutti.